Semiliano Allegri, forse la Juve più forte della sua gestione, sua non di Allegri ma di Agnelli. I giorni dell'operazione ricordante Cristiano Ronaldo è andato proprio di persona. Di Bala che va da Ronaldo in area di rigore, palla sul sinistro, Ronaldo non può calciare l'uso di lui, torna fuori a Douglas Costa. Agnerina Bernardeschi con Douglas Costa a Livi, tagliato ad uscire sul secondo palo, non la prende Ronaldo. E alle sue spalle una deviazione, favorisce la Juve, Ronaldo le sue finte, ancora Ronaldo in dribbling, doppio passo, Ancora Ronaldo torna indietro, lotta col suo... Ronaldo avanza, punta all'area di rigore, ancora Ronaldo, doppio passo, se la sposta sul sinistro, calcia! Alto sopra la traversa, sorride Cristiano Ronaldo, proprio davanti alla nostra postazione. Conclusione che non gli è riuscita bene. E' più passarelli, non trova nessuno dei due, palla recuperata invece da Giorgio Chiellini. Ronaldo ama spaziare, esede... I Bernardeschi per Ronaldo che è solo, posizione regolare, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! La prima volta in bianco-nero! Mette la palla all'incrocio, batte Eloria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale, 1-0 per la Juve sulla primavera. Inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi, ci aveva provato con un sinistro alto poco fa. C'è riuscito... Sale Bonucci, va a impostare in verticale, ancora per Ronaldo, ancora regolare, Ronaldo prova a resistere, c'è deviazione! E' autogol per cercare di fermare Cristiano Ronaldo, non è riuscito dopo una buona partita fino adesso. Capellini a evitare di toccare il pallone male e a battere Loria, 2-0 per la Juve sulla primavera. Quasi Cristiano Ronaldo doppietta, lancio di Bonucci ancora, il secondo in due minuti che riesce. E poi Anzolini anticipa Ronaldo e infila la porta sbagliata, gol del 2-0, uno la fa e Cristiano. Rivera Rosa, ancora Douglas Costa, dentro per Ronaldo. Ronaldo sul destro, ancora bloccato a terra per questa aeroposizione. Ronaldo che controlla con il petto, se la porta sul sinistro, poi però non calcia. Era che è rientrata, allora poi parte Ronaldo, aspetta, dentro Douglas Costa, controllo la finta Douglas Costa! Loria lascia il pallone a Bernardeschi, che calcia sul piede Bernardeschi, Ronaldo e Bentancur. La palla arriva per Ronaldo, Loria in qualche modo e poi Dybala. Fa doppietta e fa 4-0, è l'azione della Juve. Buon dialogo tra tutti. Sul tiro di Ronaldo arriva il gol di Balacro, la spinta un po' fa di Loria stavolta. Questa è la palla per il portoghese. è arrivato al sesto tiro. ...memoria da Giovanni Agnelli, giusto alla tredicesima edizione. Il picco triangolare, diciamolo lì, riservato ai ragazzi del 2007. Il... ...la bene in mezzo, lo fa Ronaldo! Goal! Attenzione, gol! 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 Sfonda la porta, la rieta, la Juve in gol con Marione Mandzukic. Sembrava il momento di Cristiano Ronaldo, la deviazione non va in porta. Arriva Mario Mandzukic, che è sempre determinante. Rivediamo Cancelo, Ronaldo gli toglie via il pallone Stracoscia, ma Mario dice no, glielo puoi togliere quanto vuoi, allora segno io. 2-0 per la Juve. 75esimo minuto di gioco.